Stamattina pensavo a quel fatto del karate di cui mi parlava. Che ne dici se continuiamo? Io non sono forte. Che me frega a me, cioè, capito? Ho pensato che potrebbe darmi delle lezioni. Così, se i ragazzi di Dugan venissero a molestarmi, sarei in grado di difendermi. Per cui auguri alla mamma. La pago, e come? Sono spiantata. Ho capito, se me fai sempre così, me rompi il cazzo e me ne vado, hai capito? Non se ne parla. Hai capito? Ecco. Va bene. Due problemi di matematica per una lezione. Io, cioè, capisci? Va bene, ci sto. Iniziamo adesso. Capisci? Ho capito, ho capito che devo guardare là. Ho capito, capisci? Scherza, io non ho mai lucidato la macchina a nessuno. Ho una bella inquadratura pure alle mie mani, no? Le mie mani che non sono quelle di... Beh, sono due mani però, due braccia. Divertente, il centro commerciale è divertente. Ma sei brava a truccare? Manco truccassa. Gliel'ho detto, non ho un soldo. Non sei fancazzo allora? Sa una cosa? Secondo me lei non capisce niente delle donne. Te sei cambiata tutta. Eh? Pure in mezzo alle gambe non sei più la stessa. Perché mi hai messo un piercing. Proprio là. Mi fai male.